L'assessore Marco Scaiola, le politiche abitative con Arte Imperia si sposano anche con il sociale in qualche modo? Ma pochi mesi fa abbiamo inaugurato questa splendida sede ad Imperia, che è una sede a vocazione provinciale, come giustamente diceva lei, è una sede che vuole vivere 365 giorni all'anno dando servizi, servizi importanti all'utenza arte, ma non solo all'utenza, occuparsi con un grande supporto a chi ha bisogno, soprattutto nell'ottica delle politiche abitative che come Regione Liguria stiamo organizzando su tutto il territorio. Oggi è un giorno importante perché viene sottoscritto questo accordo, questa collaborazione che Arte farà con il mondo dell'associazionismo, con molte associazioni che sono oggi coinvolte, ma non è solamente un punto di arrivo, perché noi vogliamo andare oltre, vogliamo coinvolgere chi vuole con noi collaborare, costruire un percorso, perché le politiche abitative sono sempre di più materia centrale a livello di comuni, a livello di provincia, a livello di regioni, ma anche a livello di sistema paese, perché sono sempre tante le persone che hanno bisogno di un alloggio, sono sempre tante le persone che affrontano situazioni difficili con i propri affitti, noi dove possiamo arriviamo con un grande aiuto, con una grande rete regionale su tutto il territorio Ligure, ma c'è tanto da fare. E oggi è una giornata per iniziare a lavorare insieme col mondo delle associazioni e per dare veramente risposte concrete a chi ne ha bisogno.